Vigo d'Arzere. Buffa era sul nuovo assessore al sociale di Vigo d'Arzere, Monica Cesaro, che poco dopo la strage di Nizza ha pubblicato un post alquanto discutibile sulla sua pagina Facebook. È arrivato il momento di aprire i campi di concentramento per i terroristi e di chiudere i campi di accoglienza. Aveva scritto così l'assessore, scatenando pesanti repliche e dure critiche politiche. Pochi minuti dopo il post è stato cancellato.